Un giorno una parola Le letture di questo mese sono a cura di Giovanni Bernardini e Daniela Grill Bentrovati e bentrovate, giovedì 24 ottobre La prima lettura di oggi è tratta dal Salmo 26, dal versetto 12 Hai fatto cavalcare uomini sul nostro capo Siamo passati attraverso il fuoco e l'acqua Ma poi ci hai tratti fuori in un luogo di refrigerio La seconda lettura è tratta da Prima Giovanni, capitolo 5, versetto 4 Tutto quello che è nato da Dio vince il mondo E questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede La riflessione su un giorno una parola tratta da uno scritto di Siriacus Schneegas dice queste parole Se abbiamo te nulla ci può nuocere Non il diavolo, non il mondo lontano da te, non il peccato, non la morte Tu hai la vita nelle tue mani Puoi volgere al bene ciò che ci colpisce e in qualunque modo si presenti l'afflizione Perciò ti glorifichiamo Innalziamo a te la lode con chiaro suono Tutti insieme ci rallegriamo nell'ora in cui ci incontri Alleluia Gioiosi ed esultanti, con il cuore e con la bocca Celebriamo e amiamo la tua forza che dall'alto ci soccorre Alleluia Persichiamo la nostra lezione continua dal libro di Giobbe Capitolo 4, versetto da 1 a 21 Allora Eliphaz di Teman rispose e disse Se provassimo a dirti una parola ti darebbe fastidio? Ma chi potrebbe trattenere le parole? Tu ne hai ammaestrati molti Hai fortificato le mani stanche E le tue parole hanno rialzato chi stava cadendo Hai rafforzato le ginocchia vacillanti E ora che il male piomba su di te ti lascia abbattere Ora che è giunto fino a te sei tutto smarrito Il tot timore di Dio non ti dà fiducia? E l'integrità della tua vita non è la tua speranza? Ricorda Quale innocente peri mai? Dove furono mai distrutti gli uomini retti? Io per me ho visto che coloro che arano iniquità E seminano tormenti Ne mietano i frutti Al soffio di Dio essi periscono Dal vento della sua ira sono consumati Penta è la voce del ruggente Sono spezzati i denti dei leoncelli Perisce per mancanza di preda il forte leone E arrestano dispersi i piccini della leonessa Una parola mi è furtivamente giunta E il mio orecchio ne ha colto il lieve sussurro Tra i pensieri delle visioni notturne Quando un sonno profondo cade sui mortali Uno spavento mi prese Un tremore che mi fece fremere tutte le ossa Uno spirito mi passò davanti E i peli mi si alzarono addosso Si fermò Ma non riconobbi il suo sembiante Una figura mi stava davanti agli occhi E udì una voce sommessa che diceva Può il mortale essere giusto davanti a Dio Può l'uomo essere puro davanti al suo creatore Ecco Dio non si fida dei suoi servi E trova difetti nei suoi angeli Quanto più In quelli che stanno in case d'argilla Che hanno per fondamento la polvere E sono schiacciati al pari delle tignole Tra la mattina e la sera Sono infranti Periscono per sempre Senza che nessuno se ne accorga La corda della loro tenda è strappata E muoiono senza possedere la saggezza Periscono per sempre Grazie a tutti